E leggo un'altra domanda sempre di Giovanni. Dice dato che il mostrarsi bisognosi è particolarmente nocivo agli occhi delle donne, se si avverte il bisogno di sesso, contatto fisico, desiderio di essere amato, almeno apparente, la prostituzione può essere una soluzione almeno parziale in modo da poter quantomeno limitare questa tendenza nonostante il forte pregiudizio. Poi dice magari soddisfare delle proprie necessità fisiche può effettivamente ridurre la sensazione di bisogno, anche se il fortissimo pregiudizio che si ha nei confronti di chi va a prostitute può essere una macchia, almeno a livello di consapevolezza personale. C'è ancora più grave da gestire, motivo per cui personalmente non ho mai affrontato questa scelta. Allora ne abbiamo parlato Giovanni di questo anche nella web academy che ho fatto. Allora io non condanno assolutamente la prostituzione, non la condanno neanche come scelta. Io posso ritenerla in certi contesti pure utile. Ovviamente non è che posso dirti certo Daniela mi ha detto di andare a prostitute. No, io non te l'ho detto, ti ho solo detto che io non la condanno. Però posso farti riflettere sul fatto che questa non è la soluzione, ok? Perché è ovvio che se tu paghi hai una soluzione apparente, cioè quelle cose che tu desideri non le hai, le hai per finta. Cioè hai un'idea di soluzione in questo caso, perché la reale soluzione necessita di un lavoro approfondito, ok? Invece quello che tu proponi è un pagliativo e secondo me potrebbe anche sottrarti dalla ricerca della reale soluzione del problema. Ecco. Certo, se ovviamente la necessità è così forte che uno mi dice, guarda io proprio non ce la faccio perché devo assolutamente toccare una donna se no impazzisco, vabbè allora può essere una soluzione. È sicuramente anche una soluzione onesta per certi versi, perché io dico, ah io ho bisogno di una cosa, ti pago, tu mi dai quella cosa. Il punto è che quella non ti sta dando quello che tu vuoi. Cioè tu vuoi un contatto con una persona a livello umano, emotivo e raramente trovi prostitute in grado di dartelo o magari sanno fingere bene di dartelo però non è detto che riescano a dartelo veramente. Se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale se non sei già iscritto, clicca sulla campanella per attivare le notifiche e poi condividilo con degli amici che pensi che possano beneficiare di queste informazioni. Inoltre ti ricordo che questi video sono estratti da delle dirette che vengono fatte sul mio gruppo facebook, vero uomo, crescita personale e relazionale. È un gruppo segreto, puoi entrare e viene rispettata ovviamente la tua privacy, è un gruppo per soli uomini che vogliono lavorare sulla crescita personale e relazionale. Quindi trovi il link qui in descrizione insieme al link, hai link anche dei miei prodotti che trovi sul mio sito danielacoin.it e ti invito appunto a darci un'occhiatina e ti aspetto nel gruppo. Ciao, grazie!